Sì, grazie Fabio, un saluto a te, un saluto agli amici all'ascolto in diretta al TG8 con Mirko Antonucci. Buon pomeriggio Mirko, anzitutto per capire come stai perché Pilon era un po' preoccupato all'intervallo di Cosenza. No, ieri ho fatto l'ecografia e sto bene, per fortuna sono soltanto indurito un po' il muscolo e penso di esserci per Lecce. Andiamo subito a questa buona notizia in diretta, Antonucci disponibile per la partita con il Lecce. Che effetto ti hanno fatto le parole di Pilon che hanno detto che sostanzialmente sei stato il migliore in campo a Cosenza? No, sono stato contento perché comunque venivo da un mese non facile, il mister mi ha aiutato tanto come tutta la squadra e penso di aver ricambiato la fiducia comunque. Tra l'altro nel 4-3-3 di Pilon si è fondamentale al pari di Marras perché oltre alla fase propositiva molto pericolosa che sapete fare molto bene, sia tu che Marras fate i quinti difensori aggiunti quando si tratta di difendere la bandierina del vostro calcio d'angolo. Sì, il mister chiede questo e noi eseguiamo perché comunque è lui che decide e noi ci affidiamo a lui e per ora sta andando tutto bene e speriamo che continui così. Lecce, partita molto importante, sarà il posticipo Lecce che viene dalla vittoria per una rete a zero contro il Crotone, che partita ti aspetti? Non lo so che partita mi aspetto però noi dobbiamo scendere in campo come abbiamo sempre fatto perché se noi siamo quelli che siamo i risultati verranno. L'ultima, un bilancio dei primi tuoi mesi qui in Maglia Pescara, al di là di questo piccolo infortunio che ti ha tenuto un po' fuori? No, sono contento, comunque ho trovato una bellissima città, un grande pubblico, una grande squadra e penso che sono contento ma non mi accontento perché comunque manca ancora tanto a fine stagione e voglio fare sempre meglio. Obiettivo arrivare in Serie A ma arrivarci con la Maglia del Pescara? No, non si dice questo però è ovvio un sogno ma stiamo con i piedi per terra e poi vediamo che succede. Io ringrazio Mirko Antonucci, Fabio ti restituisco la linea dopo le parole dell'attaccante Biancazzurro, sostanzialmente ha detto quello che tutti i sportivi abruzzesi volevano sentire, sto bene, nulla di grave, sono a disposizione per la partita contro il Lecce che ricordiamo sarà il posticipo di lunedì sera, fischio d'inizio ore 21, stadio Adriatico Cornacchia. A te Fabio.